Buongiorno Bikers! Oggi ritorniamo nel posto speciale dell'altra volta perché ci è piaciuto davvero tanto Purtroppo al momento non possiamo ancora dirvi dov'è com'è perché in pratica ci sono dei problemi con i tesseramenti Bisogna bene capire un attimo quindi niente adesso carico la bici e andiamo da Pilo Yo! Siamo arrivati a casa di Pilo finalmente dopo un'ora perché ho preso ovviamente ho preso tutti i semafori rossi Ciao il scemo! Non c'è! Eh no! Ma si dai zio adesso c'è il sole, c'è il sole allazzatevi Chiudi Chiudo Guarda lo splendendore della macchina rispetto alle altre, mamma mia ragazzi La nostra Milano Bike Trial car Milano Bike Trial lasciatemi piace Tanto ormai quando vedrete sta session spero proprio di essere già andati in televisione Anzi saremo di essere Di essere già stati in televisione Oh scemo io venga studio come te Bravo Vediamo cosa dicono, vediamo Cos'è Virgilio? Ah l'e-mail ti è arrivata, ma quanto sei tecnologico Pilo? Che c***o! A Milano il tempo era così E noi siamo arrivati qua, cioè in questo paese fantastico che ovviamente non vi posso dire il nome Perché è segreto, mamma mia Sembra il paese delle meraviglie, è la valle encantata Se ti fai prendere E ti fai prendere, fai c***o Vedi? Vedi? Dio, se stai calmo, senti la ruota, fai bene il movimento col corpo, pinza a quello che fai Vedi? L'e-mail qui è venato E ti fai prendere, fai bene il movimento col corpo, pinza a quello che ci sono E si, guarda, fai bene il movimento col corpo A presto Non ci credo Com'è che fai? Che ti butta Che la rampa lì ti butta Wow! 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 What the fuck? Wow! 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 Grazie.